Il patron blucerchiato apre le porte a Giuseppe Rossi, ma ha una condizione, che la Fiorentina sia disposta ad accollarsi tutto il suo stipendio. Il futuro dell'attaccante Viola è diventato un rebus, Pepito vorrebbe giocare di più dopo l'ennesimo grave infortunio che lo ha tenuto fermo tutta la passata stagione, ma Sousa fin qui l'ha utilizzato a corrente alternata e ritenendolo ancora lontano dalla condizione migliore. Col passare delle settimane sta crescendo sempre più nel giocatore e all'interno della società Viola la possibilità di una cessione a gennaio in prestito e la Sampdoria, allenata dall'ex tecnico Viola Montella, potrebbe rivelarsi una possibile destinazione, anche se non è l'unica. Il nodo è legato all'ingaggio, a certe cifre noi non vogliamo arrivare, dice Massimo Ferrero. Il futuro di Rossi sarà affrontato dopo lo stop natalizio, a rientro dell'attaccante dagli Stati Uniti e solo allora, dopo una riunione tra la Fiorentina, che non intende trovarsi spiazzata e con un vuoto in attacco, il giocatore e il suo entourage sarà presa una decisione.